Oggi raga da vari video americani mi è venuta in mente una idea veramente fantastica Cosa succede se mettiamo appunto nel nostro nome di Fortnite il mio numero di telefono E quindi praticamente ogni persona che uccidiamo ci potrebbe chiamare Si è un problema Io raga vi ricordo, mi raccomando per questo video in compagnia di Samu 10.000 like Come assolutamente vi ricordo tutti i link delle magliette e gadget che ho sotto in descrizione Magliette del vero capitano e gadget del vero capitano Insieme a magliette e gadget c'è ovviamente il link del secondo canale Nella quale io e tutto il team Blaze faremo le varie live nei prossimi giorni Quindi raga vi raccomando non potete perdervi col canale Andatevi ad iscrivervi adesso ci mettete letteralmente 5 secondi Se non volete perdervi tutte le prossime live Primo link nella descrizione Oppure cercate su YouTube CaptainBlazer2 E il canale si chiama CaptainBlazerLive Non so perché su YouTube se cerchi CaptainBlazerLive non te lo trova Ah mi stavo quasi per scordare Seguitevi su Instagram che ho su CaptainBlazerOfficial Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere altri video simili Detto questo sul mal let's go Ok raga siamo in compagnia di Aisamu questa volta per fortuna Ma per fortuna diciamolo tutti non c'è il suo faccio in alto a destra Perché ho scoperto raga che non è che vi piaccia E vi capisco vi capisco è normale Ovviamente voi il mio numero lo vedrete censurato perché è normale raga Vedremo quante persone ci chiameranno ogni volta che li killiamo E vedremo raga se sono incavorati oppure no Raga il bello è che in questo account io non ho nemmeno una skin Cioè guarda è completamente vuoto Non ho un ballo non ho una skin Sì ho quello di default che è raga è il ballo più bello del gioco C'è poi la parte finale che va Eccola E poi ho sto coso che non so perché me l'ha andato Penso per l'inverno comunque è carino E raga ovviamente vi ricordo prima di iniziare Qua non ce l'ho perché è il mio secondo account Però bisogna sempre inserirlo Dopo 14 giorni il codice vi scade Quindi raga vi ricordo se volete partecipare al contest Di 10 skin leggendarie in regalo Vi ricordo che a quelli che hanno partecipato Il contest che ho fatto a gennaio l'hanno già vinte Dicevo per partecipare al contest inserite questo supporta Un creatore questo codice qua Vi ricordo che il prossimo contest sarà questo febbraio Una volta fatto premete se accetta Ok se prima partita è andato ragazzata la facecam In questo modo voi vedete la chat censurata Così almeno non c'è problema Allora Sam Corso a commercio che ne pensi? Perfetto So che è difficile So che ci sarà tanta gente Però è meglio Allora Cerca di lasciarmi le kill o almeno Cerca di danneggiare i player fino a metà Così almeno vi faccio la fine E vediamo se ci chiameranno Tanto il telefono qua davanti Così vuoi dare le case alle ultime Perfetto Allora te in quale vai? Questa qui grigia? Oppure... Questa qua si riesco Ok perfetto L'arrivato in quella in fondo Aspetta C'è il tizio rosa che mi fa Bella bella per la nostra schiena Stiamo volendo la mai scippata C'è il tipo lì? Non c'è la cesta E' venuto nella casa mia il tizio No ok qua non c'è nessuno Perfetto Il problema è che non ci sono nemmeno armi Che palle Ok scudini Oh 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 Cito non ci sono nemmeno armi Che hai trovato? Un pompa quello lì Buono che ti piace a te A me non è che piace particolarmente È un pompa nuovo insomma Se vuoi ti do quello blu Del nonno in cambio Va bene va bene va bene Ci sto Sono che anche per voi Una mezza cavolata Ma a me non piace sto pompa Mi fa proprio schifo Bello sto R Mi serve Troce uno scudino Che se te non ti serve C'è una cosa Prendo gli scudini E' bella Vai andiamolo a killare 32 32 Bravo Ok E' già grigio Se è già grigio allora Lo vado a final killare Dov'è? 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 E' qua a buildare Guarda c'è fatto la coppola E vai facciamo eruzione No dove? Sam è completamente sparito E' qua da me E' qua da me E' veloce Ma come fa' essere lì? E' lì vai Eccolo vai Altra granata Morto Dietro lì dietro un altro Raga ci sto osservando Vai 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 No dai Quanto è hit? Sam è qua da me Cap 0 killo questo Eeeh non lo so Aspetta E' sopra Vai Prova che non riesco a mirarlo Eh bravo hai fatto bene Devo ricaricare Fermo un secondo Mi servirà anche lo scudino Eccolo su Dai che sei morto Dai che sei morto Dai che sei morto Mannazzo Stasense Ok Abbiamo killato anche il secondo Abbiamo killato anche il secondo Ok Killiamo anche questi Bravo Sam Finito Oh vabbè Hanno fatto Oh Oh Hi what's up What's up Hello Hello Came in Fortnite Yes Ha chiuso Cioè raga Vabbè Vabbè Ma sono contento così Chi era questo? Non posso farvi vedere il numero Però sarebbe figo vedere da dove veniva Ragazzi hanno chiamato la seconda kill What? Non me lo aspettavo Prima di quanto mi aspettassi Ora raga Obiettivo vedere se qualcun altro ce li chiama E soprattutto vincere la partita Sam ma te come sei messo a cura? Hai scudini? Scudini? Mi sembra bello Scudino Niente Sai che ci sono i mostri giusto che danno vita? Vero è vero Che non è male come cose Il problema adesso è trovarli Perché Oh Spawnano sempre quando devono spawnare Ma quando penso che trovarli Ah Perfetto Quando penso che trovarli ci sono Perfetto Dai Dov'è che sono? Eccoli Quello lì 62 Mi servono a me? Naggia te Naggia te Ma tirano anche un botto di roba questi Per farli spawnardi per forza rompergli la base? Poi almeno far finta di rompere Ok Allora vai Tiro epiconata Tiro epiconata Ok Quanto gli devo togliere? Buono Ma guarda quanti Naggia loro Comunque l'epic questo aggiornamento Secondo me poteva farlo molto meglio Sono sincero Cioè non è che mi sia piaciuto troppo Dai questa qui è lasciata uno scudo Ne me lo tiro io Sam Ti hai trovato la balestra? Che figo Se non ho altra là Se la vuoi? No Non mi interessa A me non piace come arma Però L'hanno fatta spawnare per un botto Cioè ma più che altro È sempre rimasta nel gioco E non capisco perché È utile solo per ammazzare gli zombie alla fine Sì Contro i giocatori fa schifo Sam ci sferrano Da dove? Sud mi sembra Oh cavolo Basta sti zombie Ecco vedi che quando non servono Spawnano sempre Eccoli eh Li vedi? Li vedi? Sono su di sopra la montagna Hai una jump per caso? No Servirebbe No Ok niente Pensavo di prenderlo Almeno con un colpo Invece è un casino Vai Sam cerco di chiedarlo io Questo 62 Buono Bella Vuole il pilato Lo uccido No No Io ho tirato Un hit Decente Aspetta Ma perché Si è ammazzato da sola Ma dai Ok anche io sono stato un pollo Per andare così tanto danno Il cazzo Ora di goal Cazzo di goal Sam Cazzo di goal Va bene De goal Qua c'è anche gli scodini Belli gli scodini Eh io ti lascio una shieldone Guarda Ok Buono 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 Perfetto Grazie E vai Sam ho trovato uno slope E me la son bevuta Vai Full vita e fu scudo Buono Però abbiamo un ordine di zombie Che ci segue Mannaggia Ti update Inutili Bello Bello Questo si che mi serviva Sam c'ha la tua lancia Lancia granate Che le dici Lo prendiamo? Riesci a portarlo Eh non lo so Perché ho già la deagle Eh io ho già altre le pure Eh hai un medikit Lo posso dare? Medikit non ce l'ho C'ho le postancine E lo scodino io Ok no Allora niente Niente da me Arrivo 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 Dove sono? Sono sotto Sono sotto Sono andato un po' Cavoli No materiali Come faccio ad avere così pochi materiali? Mi so di averne in più Aspetta Non sono così forte No 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 Non è così forte No Credo la fossero più bravi Perché mi hanno tirato A più in mente di digore Aspetta Devo chillarle io Aspetta l'ultimo Vai Bella questa E l'altra l'hai fatta te Ok ci sta Vieni il medikit Intanto io controllo il telefono Per vedere se vi chiamano Per ora non vedo nessuna chiamata Ok questi non ci stanno aspettando Quindi questi proprio Non gliene fregato niente Del numero Quelli di prima ci hanno aspettato Quelli di prima infatti Ci hanno aspettato per molto Secondo me Alcuni pensano che è il codice Quello lì della PS4 Anche se Penso che sia diverso Anche se Anni server da computer Non lo so in quanti potrebbero pensarlo 18 rimanenti 3 kill Te quante kill? 3 anche io Ok buono Non si è messi male Comunque vi devi lasciare più kill Mannaggia te Per ora abbiamo avuto una persona su 3 Che ci ha chiamato Che non è male Non è male Guardate a fare anche voi Sta sfida Vedete se vi chiamano Sam Te Materiali Cose Come sei messo? Ah uso il rampino io Allora perfetto Comunque Oh ci credi che io facevo fatica A vedere dove era corso Prima quando ero laggiù Non si vede niente Ma poi non solo c'è la nebbia C'è anche la neve Che volevo peggio Nebbia e neve E' lo schifo C'è gente guarda qualche parte Eccoli Eccoli Aspetta 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 Vai aspetta Provo usare la digola Ah niente Mi stato Probabilmente quelli ci verranno a feitare Sei pronto? Buono sceso Ok buono Eccoli sono lì sopra Vedi Sta fuciando Oddio Quanto vicino Mi è passato coraggio No 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 Sam Eh Sam niente Questo qui mi ha pillato Tantissimo Bravo bella L'altro L'altro è E' esploso Dove è andato? Attento caracompagno Faccio l'altro sotto Ma questo Io pensavo che fossi tu Perché era talmente labbo Che nemmeno mi sparava Ehm Prendo un po' di curette E arrivo Aspetta il cazzo Ho già messo a jump Non hai molta vita Va bene Arrivo 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 Tanto le bende Stai tranquillo Aspetta Oh cavolo ma adesso toglie due No non ci credo Oddio Sam Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Devo tirare un'altra benda Oddio Sam Oddio Sam Ho paura Ho paura In che situazione mi sono messo Aspetta mi tiro un'altra benda E poi arrivo Tra quanto parte la prossima Un minuto Però tanto lì siamo attaccati Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Per la vita E' alto Questi stanno aspettando Sto aspettando E' vero Potrebbero chiamarci Ma io intanto mi bendo A te ti sto aspettando ancora Sì sì Sto arrivando a benda Magari c'è Il suo amico che chiama Aspetta Dovrei avere No no non farò niente Oh Oh Di nuovo Dai Ti chiudo Ti chiudo Aspetta Aspetta che metti Anzi Sam Te come sei messo Cura Eh ma sono un benda Eh lo so Ti servo un benda Però sicuramente meglio di me Ok adesso Adesso non lo so E' uscito il quodoro Bello quell'oro Ci dà un botto di roba Però è difficile da killare Aspetta Aspetta Oh 200 botte Io faccio quel pompa Vai L'ultimo colpo No come Un botto mi stanno Vai No ma com'è Ok Bello il baridozzo Ok Te lo fai te il baridozzo Ok buono Copri un attimo Sì sì ti copri Aspetta 25 Questi qui muoiono Oh ho tutto scarico Save Ho tutto scarico È un casino È un casino È un casino Te lo dico È un casino Sono troppi Capo usa la mia tronetta Ha lasciato delle vende Eh non posso Te lo scarica Aspetta Aspetta No Mamma mia che devasto Stavo questi qui Stanno rompendo tutto Aiuto Essere solo un bordo Aspetta via Uh Quanti basta Samo sono troppi Ok Prendiamo 100 di scudo Prendiamo 100 di scudo Buono buono Vieni qua capo Aspetta ho lasciato I scudini qua Eh vabbè ciao Quanti Quanti Sè Poi altri Altri Vedo bastano dai Aspetta via 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 Fuori No Ok No Perché no Sam Sam Guarda il video Ti prego guarda il video Si vede che io prendo la ferrovia E non me la prende Ferrovia Sì Ferrovia è la fun Hai capito Siamo al centro E 5 rimanenti Il game è stra vincibile Adesso l'ho detta L'ho detta L'ho detta È solo lui Perché vedo così poco Bru non capisco Sei lì oppure no Ma Che schifo ragionamento Non può essere solo uno Non penso che sia solo uno Ci sarà anche Sì perché C'è un team di spaglia No ma come ho fatto a prendermi No infatti sono due Vedi che non è solo uno Eh infatti Però c'è un altro Calmino stai Se la prendevo con Sono cecchinate Veramente Ma non vedo Assurdo È quello Infatti Non vedi Se vuoi una jump Comunque Pronto Sam 3 2 1 Vai Jumpiamo Comunque ho tutte le mie Storte Tutte le sensibilità Sbagliate Vai Tutto storte Via Vieni qua sulla casetta Se riesci Anzi Non lo so Ah ok L'ho visto Vieni qua Vieni qua sulla montagnetta Guarda li sono tutti là Vicino agli zombie Aspetta C'è uno lì che ha la minigun C'è C'è un orso con la minigun Poi non è un orso Un coso delle nevi Però vabbè È uguale dai È uguale Se mi ammazzano Se mi ammazzano Qua è un casino Uh aspetta L'ho presa Dov'è Dov'è ragazzi Oh Oh stai calmo Stai calmo Mamma mia regà Questi qui sono veramente Veramente cattivi Eh lo vedi Cavolo ma è qua Quando miro tutto 58 buono Quando miro sono tutto storto Sam Te non hai idea 27 Dai dov'è questo Dov'è questo Bello Eh all'american No è lui che ha la minigun E qual è il problema Aspetta eh Lo killo eh Cerca di non killarlo Se riesci non killarlo Beh allora dei morti Perché non ho molti mati Ok uno si è suicidato Ho visto Ok l'altro L'ultimo Che poi non è l'ultimo Aspetta Eccolo lo vedo Lo vedo Ma come Era l'ultimo Ma non eravamo in 5 Va bene Va bene Va bene Non c'è Bella vittoria Due chiamate Sam Due chiamate Probabilmente quello lì Che non l'avevo ucciso io Mi ha aspettato per un attimo Ho visto il mio numero Gliel'ha detto al compagno E mi ha chiamato Bello Figo questo Prima partita su questo conto Prima vittoria Non mi sembra male come cosa Dai Si festeggia con un bel ballo Insomma Dai che ne dici Bel ballo ovviamente Di quelli rari Questo regalo è il ballo più raro Di Fortnite Chi è che non ci crede Guarda cosa ho appena comprato capo Cos'è appena comprato vai Quello che ti faccio Ah Quello del begonze Questo qua Quale codice hai usato Scusa un attimo Ho usato blaze Captain YT Bravo Bel codice Bisogna mettere Raga penso che sia Al codice di pro E allora è questo ragazzi Vi ringrazio veramente Tanti su previsione Vi ricordo che ovviamente Il numero verrà censurato Per privacy Quindi cose varie Altrimenti mi ritroverai 100 miliardi di chiamate E ovviamente vi ricordo Seguite i Samud Dal suo link Questa in iscrizione Mi raccomando E seguitemi anche a me Su Instagram Che io sono CaptainBlazerOfficial Vi ricordo Come al solito Sempre in iscrizione Abbiamo il link Delle magliette Gadget Vari Appunto del vero capitano E il link Nel secondo canale Nella quale Noi di TeamBlaze Facciamo le live Quindi ragazzi Raga quando Iscrivetevi al secondo canale Che si chiama appunto CaptainBlazerLive Se ancora non avete fatto Ovviamente iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per non perdervi altri video simili Detto questo Noi ci vediamo In un prossimo episodio Ciao turma